Ciao a tutti, ciao Massimo, noi della MR Recording non ci fermiamo e anche a distanza in quarantena andiamo avanti con l'MR Talk. Ciao ragazzi, io sono Massimo. Diamo il via all'intervista. Questo è il video di intervista a Rouge, la vincitrice dell'MR Contest 2020. Vai con le domande! Il tuo nome? Ciao a tutti, io sono Serena in arte Rouge. La tua età? Ho 20 anni. A quanti anni hai iniziato a cantare? Penso di aver iniziato a cantare circa 6-7 anni fa. Un tuo pregio e un tuo difetto? Un pregio e un difetto? Allora, credo che, allora, come pregio la mia generosità e difetto la mia testardaggine. La tua fonte di ispirazione? La mia fonte di ispirazione credo sia la mia vita stessa, la mia famiglia e tutte le persone che mi sono accanto, tutte le persone che conosco, le persone nuove che mi capita di incontrare, mi danno sempre qualcosa in più. Quindi sì, la mia vita è la mia fonte di ispirazione. Componi i brani? Sì, compongo i brani e appunto a breve uscirà il mio inedito e lavoreremo insieme io e la MR Recording. Appunto so già che sarà un bellissimo lavoro e un bellissimo prodotto, quindi io vi invito a restare collegati e probabilmente dopo la fuoriuscita del singolo si lavorerà anche all'uscita dell'EP perché, diciamo, da poco ho terminato la stesura di tutto l'EP, quindi spero appunto che possa uscire al più presto e che tutti possano, insomma, ascoltare quello che ho da dire. Con quale strumento preferisci comporre i tuoi brani? Come strumento predigo la chitarra, anche se so suonare tutti i vari strumenti. Ho composto anche un po' il pianoporte, però diciamo che il mio strumento principale è la chitarra. Ci fai ascoltare qualcosa che ti rappresenta? Questo pezzo che mi rappresenta non credo ci sia. Io vado molto a periodi, quindi non so quali sia il pezzo che mi rappresenta in questo momento, però una delle cover, diciamo, sulle quali ho lavorato di più è Notivity, perché mi sono avvicinata ad un'artista Chad Faker che appunto aveva rifatto questa canzone molto famosa dei Black Streets. E niente, questa qui. Chad Faker che appunto aveva rifatto. Come hai conosciuto la MR Recording? Come ho conosciuto la MR Recording? Grazie ad una mia cara amica, Benny, che saluto. Lei mi ha parlato del contest, mi ha proposto di parteciparvi, anche lei ha partecipato. E niente, quindi io ho accolto al volo la sfida, la possibilità e così ho conosciuto la MR Recording e tutte le persone fantastiche che ci lavorano. Cosa ne pensi dell'esperienza contest organizzata dalla MR Recording? Come dicevo prima, ho partecipato al contest non conoscendo assolutamente questa realtà, diciamo. Però devo dire che è stata una bellissima esperienza, perché mi ha aiutato a mettermi alla prova, a mettermi in gioco e mi ha fatto conoscere tante persone stupende. E penso sia stata un'ottima cosa sia per noi artisti a livello di crescita sui social che appunto per la MR Recording che ha avuto la possibilità di farsi conoscere. Quindi è stato uno scambio eco, diciamo così. Penso sia stata una cosa molto molto originale e anche divertente. Quindi per restare aggiornati riguardo, insomma, il mio singolo, riguardo tutte le novità che ci saranno, vi invito a seguire la pagina della MR Recording. E niente, quindi aspettiamo presto l'uscita del singolo e chissà in futuro anche dell'opera. Fai un saluto alla MR Recording? Un saluto enorme a tutte le persone che lavorano in questo posto fantastico e un saluto a Massimo della MR Recording, a Massimo e a Cassandra. E niente, continuate a seguirci e aspettiamo tutti insieme l'uscita del singolo. Vi ricordiamo di seguire la pagina Instagram, la pagina Facebook ed il canale YouTube dove caricheremo nuovi contenuti. Vi ricordo che potete mandare un'email alla mrrecordingstudio.com per prendere parte al nostro programma e portare qui un po' di musica. Ciao Ruggi, ciao Massimo, ciao a tutti ragazzi e alla prossima puntata! Ciao!